Incentivare l'uso della bicicletta tra gli studenti è l'obiettivo del progetto sperimentale Bike to Study a cui ha aderito l'Università di Teramo. L'Ateneo si rivolge ai propri studenti proponendo un vero e proprio cambio di mentalità verso l'ecosostenibilità, a vantaggio di ambiente, salute ed economia. Nel Mirino ci sono gli spostamenti da casa e dai nodi di intescambio con ferrovie e autobus verso i tre poli di Piano Daccio e Coste Sant'Agostino a Teramo ed Avezzano. Dopo una prima fase di sondaggio tra gli studenti per valutare l'adesione al progetto fino al 25 di ottobre, Bike to Study entrerà nel vivo attraverso l'erogazione di un incentivo economico diretto di 0,25 euro al chilometro commisurato alle distanze percorse, misurate attraverso un apparato elettronico. Inoltre l'Unité realizzerà una stazione per ogni polo con colonnina di ricarica elettrica. Accanto a questo anche un'incentivazione in diretta con nuove tecnologie per evitare le collisioni con le autovetture, i furti e per garantire onde verdi ai semafori. L'operazione si sviluppa in un ambito quindi molto ristretto sulla base di un'intervista informatica che verrà fatta su un questionario che verrà posto sul sito nostro dell'Adsu dove invitiamo tutti i ragazzi a partecipare per darci elementi, non solo per perfezionare il progetto ma anche per dare ulteriori sbocchi di prospettiva. Come capite bene noi mettiamo a disposizione 40.000 km, 40.000 km sono calcolabili su tonnellate se non ricordo male sono circa 5 tonnellate di meno di CO2 immessi in atmosfera ma c'è anche meno PM10, c'è meno PM2,5. Quindi è un sostanziale beneficio della qualità dell'aria nel contesto urbano. Dopo la sperimentazione se i risultati saranno positivi l'iniziativa sarà estesa con ulteriori incentivi economici e con un intervento di premialità anche da parte di Regione Abruzzo.